I più giocatori proprio perché Dumbia fa un'accelerata in area di rigore molto importante prendendo il tempo alla difesa dell'altro recettino che era in uscita calcia bene e sulla distinta c'è subito Mancosu pronto a ribadire in rete ma se non ci fosse stato Mancosu era pronto Caturano quindi è una squadra che attacca in modo corale proprio perché è una mentalità questa di una squadra che vuole andare a vincere il campionato E allora su questo gol